Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Sogni per Bambini e Rebelli, un gioco da due o più giocatori, età 8 o più e una partita media dura sulla ventina, trentina di minuti. Gioco della Cranio Creations, che mi è stata offerta appunto da Cranio Creations, che io ringrazio di cuore per questa copia e recensione, grande cranio, grazie, è sempre un onore e un piacere collaborare con voi. Un gioco molto veloce, un gioco che si ispira nemmeno tanto da lontano a giochi famosi come Dixit, è il classico gioco piccolino, tascabile, portatile, che farà divertire chiunque. Una partita a Sogni per Bambini e Rebelli non si rifiuta mai. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Sogni per Bambini e Rebelli, gioco di carte edizione di Cranio Creations, è un gioco cooperativo, molto veloce alla fin fine nelle meccaniche e che, come detto in precedenza, prima della sigla, ricorda un pochino Dixit. Perché per quanto Dixit è un gioco competitivo, quindi dove devi vincere te mirando a fare meno punte agli avversari, qui quello che conta invece è giocare come gruppo. Infatti è un gioco full cooperative, al 100%, dove non si può comunicare. Quindi a differenza di Dixit, in questo gioco non c'è la possibilità di commentare qualcosa o dare un indizio, Dixit, quando mettete una carta giù, dite una frase, che ne so, patriota, vi faccio un esempio, non so perché mi è venuto patriota di The Boys comunque, è uno, e quegli altri mettendo le carte devono cercare di indovinare o di sviare. Qui no, qui giocate in cooperativa, non potete dire niente, solo voi sapete qual è l'obiettivo che poi gli altri giocatori dovranno indovinare, i giocatori della vostra squadra. Quindi qui o tutti si vince o tutti si perde, non c'è la possibilità di giocare uno contro l'altro. Il gioco normale dura 4 round, cioè nel senso dovete indovinare 4 personaggi storici importanti o tutt'al più potete fare una modalità avanzata, sono regole ovviamente totalmente opzionali, in cui potete andare avanti praticamente all'infinito. È un gioco veramente molto semplice, è un gioco che si intavola in 3 secondi, vi faccio vedere un pochino se c'è la scatola, un velocissimo unboxing, e poi vi spiego un po' come funziona anche se un po' ve l'ho già spiegato fondamentalmente. Unboxing, confezione molto piccolina, è bellina la fin fine, sembra un po' un reame onirico dei sogni, anche il tipo di fonte, la scritta mi piace. Sogni per bambini e ribelli, vi ricordo gioco appunto della Cranio Creations. Apriamo. Regolamento, a parte che vi fa vedere cosa c'è dentro e come disporre nel setup iniziale, questo è il regolamento. Fine, eccolo qua. Questo è tutto quanto il regolamento di gioco finito, praticamente vi fa vedere il turno successivo, fine del gioco e regole opzionali. Quindi veramente sono due o tre pagine. Tesserine degli obiettivi, indicatori della luce che sono alla vita, praticamente quando sbagliate a dare una soluzione, inizialmente queste sono messe così, quando sbagliate le girate dal lato opposto spenti, vuol dire che avete perso due vite. Queste qui sono le prancette degli obiettivi, quindi in questo caso l'obiettivo sarà il personaggio 3, in questo caso 2, in questo caso 1 e così via. E poi ci sono ovviamente bustine per conservare le carte, molto utili, meno male ce le mettono sempre, carte indizio con i disegni e poi tutto il resto delle carte, che sono carte personaggi, altri obiettivi che si sono staccati e di qua ci sono tutti quanti i personaggi storici. Vi faccio vedere un po' come funziona. Lo svolgimento del gioco è semplicissimo, si hanno delle carte in mano che vengono pescate, che sono le carte indizio e sul tavolo vengono messi pescandole, ovviamente dal mazzo di tutti quanti i personaggi, che sono 40 donne, tra le più famose e importanti ci sono, che ne so, partigiane delle guerre mondiali, oppure Cleopatra, insomma donne molto molto importanti. Anche per questo si riferisce il nome Sogni per Bambini e Ribelli, perché tante volte ci piacerebbe essere anche quel personaggio storico, o non soltanto il fatto di raffigurarsi a quel personaggio storico, quanto anche della vita che quel personaggio storico ha fatto. Perché poi l'avete visto, Cleopatra in particolare, mi viene in mente, una di queste carte qui era una delle più grandi ribelli che ci sono state nella storia, che ha portato anche grandi cambiamenti nell'Egitto dove è vissuta. Comunque, a parte questa piccola parentesi, voi all'inizio dovete pescare carte di questi personaggi storici e le mettete nove, una sotto l'altra, a formare file di tre. Quando avete tutte e quante le nuove carte, c'è un giocatore, che fate un pochino aggirare, di solito il regolamento dice il giocatore più ribelle, fatelo una volta per una, magari una volta un giocatore, una volta un altro, questo giocatore pesca tot carte in mano da un mazzo comune e in queste carte ci sono delle raffigurazioni, delle immagini, un po' come ho detto appunto su Dixit, per fare una similitudine. E con queste carte, lui ne può mettere in campo quanto vuole, una o tutte e sette, senza dire nemmeno una parola, e pescando una carta obiettivo, sulla carta obiettivo magari c'ha scritto 5. Voi andate a contare, da sinistra a destra, dalla prima riga all'ultima, 1, 2, 3, 4, 5, quindi la carta al centro è l'obiettivo che nessuno sa, lo sa soltanto il giocatore che l'ha vista, che però non può dire niente al resto del gruppo, quindi vede qual è l'obiettivo, capisce, la mette giù e poi con le carte che in mano ne può giocare una o tutte per dare indizi. È inutile metterne sette, perché potrebbero sviare ad esempio, ma è anche rischioso metterne uno o due, perché forse sono troppo poche. E nel regolamento viene fatto l'esempio più classico, se magari il personaggio che abbiamo citato è Cleopatra, quello da indovinare, potrebbe essere messo ad esempio una corona dorata, qualcosa del genere su una carta, però magari uno potrebbe dire la corona dorata potrebbe essere una regina, però magari potrebbe, siccome sulla carta non c'è solo la corona, magari ci sono le montagne, le nuvole e un cavallo alato, un pegaso, esagero, dico una cavolata, però potrebbe sviare, perché magari uno non si ferma sulla corona quanto sul cavallo o sulle montagne dietro. Magari uno mette un altro obiettivo e dice oltre alla corona dorata metto anche, non lo so, un serpente. Corona più serpente potrei raffigurarla appunto al potere di Cleopatra, il simbolo che aveva sulla corona appunto, quindi ci potrebbero stare tante cose, però laddove forse un consiglio è poco, 3, 4, 5 o anche di più potrebbero essere troppi, perché se voi indovinate quello, il personaggio, andate avanti e fate il prossimo. Se lo fallite, avete un tot di vite, che sono dei token, dei segnalini che avete visto in fase di unboxing, e ogni volta che sbagliate, ne consumate due. Quando tutti quanti sono finiti, ovviamente avete perso la partita. Dovete indovinare 4 personaggi storici e colui che ha pescato le carte all'inizio può spendere uno di questi segnalini, girarlo, come se ci fosse stato un mezzo fallimento, perché il fallimento è sempre da due, ne può girare uno, scartare tutta la mano e pescarne altre, perché magari le carte che ha pescato non gli andavano bene. Quindi come vedete, è un gioco facilissimo, indovinate 4 personaggi storici e avete vinto. È tutto qui. Il discorso è questo. Finite le vite e persa la partita. Valutazione finale, questo, sogni per bambini e ribelli. È un gioco semplicissimo, è un gioco immediato, che sono secondo me anche punti di forza di giochi del genere, perché dove lo porti, lo porti, fai divertire, è una partita, non si rifiuta mai, anche perché, come vedete sulla scatola, età 8 o più, ma anche 6 o più, ragazzi, qui c'è chi non è avvezzo magari a giochi un pochino troppo complicati, party games, giochi di famiglia o quant'altro, qui davvero dove lo mettete, lo mettete, io sono convinto di spiegare il mio babbo in due minuti, ha capito come si gioca, quindi è veramente facile ed è bellino, perché devi mettere anche lì a parlare con gli altri giocatori, solo quello che ha messo le carte e ha l'obiettivo non può dire niente, è una specie di arbitro imparziale, però comunque cercherà di dare indizi, quindi è anche bello vedere le persone che si confrontano per poi trovare una soluzione in comune in un gioco solo cooperativo, quindi passata a pieni voti, costo contenuto, veramente divertente, ringrazio Cranio Creations per averci offerto questa copia per la recensione e se lo volete ordinare sovi impressione e primo link in descrizione dalla giocolibreria Semola al miglior prezzo sul mercato, mi raccomando, quando acquistate dalla giocolibreria Semola usate sempre il codice discount CORIDAN7 al momento dell'acquisto per avere uno sconto del 7% su tutti i prodotti che vedete nel negozio, quindi giochi da tavolo, miniature, games workshop, codex, libri dell'armate, colori della GV qualsiasi cosa, CORIDAN7 vi fanno sconto del 7%, spese superiori ai 70€ non pagate le spese postali e se questo prodotto non lo trovate nella lista scrivete al supporto, a Corrado, il proprietario del negozio e gli dite arrivo dal canale di CORIDAN, sogni per bambini e ribelli non ce l'hai ma si può ordinare comunque, lui farà il possibile per farvela avere al miglior prezzo sul mercato e usate lo sconto, mi raccomando. Quindi ragazzi, è un gioco, secondo me, passate a pieni voti, veloce, divertente, contenuto e ci sta, una partita è come Dio sempre a Dixit, non si rifiuta mai, si fa sempre. Ciao ragazzi, alla prossima!